Quarta giornata nel girone A di Primavera 2, il Padova torna finalmente alla Piani per affrontare il Bologna, una delle favorite alla vittoria finale, biancosudati che sono fermi a 4 punti, così come gli emiliani, emiliani che però impattano benissimo la gara nel primo tempo, praticamente domina la formazione rosso-blu che va al tiro subito dopo 5 punti, 5 minuti con Visconti dai 20 metri, la sfera però termina troppo alta, il 17esimo minuto il Bologna riesce sempre a giocare molto bene in verticale, questa volta sfonda sulla destra, c'è un primo tiro ribattuto, il secondo però va in rete, primo tiro di Kosalter a ribadire la palla in rete, è il numero 7 Visconti, così dopo 17 minuti il Bologna va in vantaggio ma non smette di premere, passa praticamente un minuto e mezzo Visconti ha tantissima libertà sul centro-sinistra, si prende praticamente tutto il campo, poi c'è quest'ottima imbucata per Rabi che con il sinistro fa secco dalle monache in uscita e dopo 19 minuti il Bologna si porta già sul 2-0, qua il Padova ha lasciato però troppo campo alle iniziative del Bologna, così i biancosudati sono costretti a reagire ma vanno praticamente in tilt, 25esimo minuto c'è un'altra bellissima azione del Bologna, scambi molto veloci, qua Lovato riesce a mettersi una pezza ma solo temporaneamente perché la sfera arriva a Mazza che dal limite dell'aria si inventa un sinistro potente e preciso all'angolino, è dominio del Bologna che al 25esimo minuto trova il 3-0, il Padova ha accusato tantissimo il colpo e verso la mezz'ora i biancosudati diciamo così sono anche fortunati perché il Bologna si divora il poker, il tiro di Rabi da ottima posizione finisce alto, per vedere un'occasione biancosudata bisogna arrivare al 31esimo minuto quando Telesi lavora un buon pallone ma poi Moro e l'Orchipanizze un po' si ostacolano, nessuno dei due riesce a colpire la palla finisce fuori, secondo tempo Mister Centurioni cerca di dare maggior peso offensivo al Padova che comunque prova a dare una scossa alla sua partita anche con qualche azione individuale, qua ci prova il terzino Contessa che fa un bel doppio dribbling, poi però spara le stelle, la partita vive una fase un pochino piatta finché al 22esimo minuto il Bologna guadagna anche un calcio di rigore per questo fallo delle monache su una mura, vediamo l'uscita del portiere un pochino avventata, l'avversario lo anticipa e così è, penalty per il Bologna e dal dischetto Mazza segna la sua doppietta, 4 a 0 per il Bologna a metà del secondo tempo i cambi di Centurioni quantomeno scuotono un pochino la squadra e così al 38esimo minuto è proprio uno dei nuovi entrati, Violato a segnare il gol della bandiera per il Padova con questa bella azione personale, entra in area di rigore con il sinistro, batte il portiere ovviamente non c'è tempo per tentare una rimonta che sarebbe incredibile, anzi è il Bologna andare vicino al quinto gol con questa punizione di Corbo ben parata da Dallemona che finisce quindi 4 a 1 per il Bologna, pesante sconfitta per il Padova che adesso potrà tirare il fiato, la settimana prossima c'è il riposo e poi Biancoscudati sono attesi dalla trasferta di Parma.